Una storia di coraggio e determinazione, un racconto che tocca il cuore e incoraggia ad uscire dal silenzio ed affrontare il proprio dolore. Ieri sera al circolo nautico di Torre del Greco la presentazione dei libri, il peso dell'esperienza e pillole di coraggio da casa Piuccio, della scrittrice e pianista torrese Pina Radicella. Una serata all'insegna della musica, ma anche un momento importante per parlare dei disturbi del comportamento alimentare, alla presenza di autorevoli relatori. Pina Radicella, artista poliedrica di Torre del Greco, stasera la presentazione delle sue due ultime opere qui al circolo nautico, una serata all'insegna della musica e della cultura. Come nascono questi due libri? Ma intanto questi due libri sono il frutto di un lungo percorso, anche di un calvario se vogliamo, perché il titolo soprattutto di uno, Il peso dell'esperienza, è emblematico, deriva dalla mia esperienza appunto di ex anoressica, ex bulimica. Io ho sofferto di tutti i disturbi del comportamento alimentare che ho cercato di sintetizzare, sperando di esserci riuscita, in quest'opera. E poi c'è all'atere un altro lavoro, un'altra fatica, intitolata Pillole di coraggio da Casa Piuccio, dove affronto temi estremamente sociali, come l'amore, l'amicizia, in chiave decisamente innovativa. Quindi io sono una che vive sempre fuori dalle righe e spero di esserci riuscita anche in questo senso. Attraverso la scrittura, attraverso l'arte, anche la forza di ritrovarsi e di affrontare queste difficoltà. Di affrontare queste difficoltà, ma soprattutto di metterle al servizio del prossimo, perché io ritengo che la sofferenza, ma l'esperienza in genere, vada capitalizzata e quindi vada messa veramente al servizio di chi ne ha bisogno. Quindi è un messaggio forte che arriva stasera attraverso questa iniziativa. Un messaggio forte che è coadiuvato da interventi musicali che servono proprio a stemperare questa forte componente, perché parlare di anoressia, parlare di bulimia è un tema serio, ma noi cerchiamo di renderlo in maniera ludica proprio per esprimere, per far arrivare il messaggio che da queste difficoltà, da queste malattie, chiamiamole col loro nome, si può tranquillamente uscire con tanta forza di volontà, tanto coraggio, ma anche trovando le persone giuste, le figure giuste e io le ho trovate. Bisogna tenere presente che il disturbo del comportamento alimentare è un disturbo doloroso, qualcosa che mette la persona a contatto con un grande dolore, un grande dolore interno, quindi sicuramente è un discorso che va affrontato in equip. Ci sono varie figure professionali che devono interfacciarci fra di loro per poter dare una risposta congrua alla persona che abbiamo di fronte. Dal punto di vista mio come professionista io penso che c'è bisogno di una grande capacità di ascolto più che di una fase di prescrizione, di grammatura, ma tentare di capire come la persona può essere portata a un approccio più salutare al cibo. Come capire quando è necessario rivolgersi al medico, allo specialista? La prima cosa è il peso, il peso in eccesso e in difetto che pone la persona in difficoltà e quindi la porta generalmente presso i nostri studi. Stasera anche il racconto di un'esperienza, di una testimonianza che lei ha seguito da vicino. Sì, io ho seguito Pina, infatti c'è un'introduzione mia al suo libro proprio perché l'ho seguita nella fase della bulimia, sostanzialmente nella seconda fase e quindi abbiamo fatto questo percorso insieme e devo dire al momento con bei risultati, Pina è una donna di grande coraggio. E' importante per noi psicologi capire la natura del disturbo alimentare e come ho già detto in altre occasioni è come se noi ragionassimo di un qualcosa coperto dalla cenere e però sotto noi non sappiamo cosa copre questa cenere, di fatto però sappiamo che c'è qualcosa, quindi dobbiamo scoprire quel qualcosa che cos'è. Tutto nasce dalla mente, da un forte disagio interiore? Alla base c'è sempre un evento traumatico o c'è un disturbo nell'accettazione del proprio schema corporeo che porta a un disagio e che porta ad uno squilibrio rispetto a ciò che è il cibo, ciò che il cibo produce come endorfino, come piacere e quindi come se poi il cibo diventasse è una sorta di anestetico che ti protegge da tutto il dolore, da tutti i dolori e da tutte le angosce. Questi disturbi colpiscono soprattutto i giovani? In un primo momento abbiamo avuto una, come dire, una problematica più a sfavore delle donne e poi successivamente anche dei giovani. Il corpo sta diventando più della mente, più dello spirito, forse più importante rispetto al fatto che è più facile essere, cioè apparire che non essere. Diversamente noi lavoriamo perché le persone debbano essere e perché il corpo è un qualcosa che ci porta, ma profondamente noi abbiamo un'anima e quella va coltivata, quella va protetta. È sempre meglio proteggere l'essere piuttosto che l'apparire. Grazie.